non può essere non può essere che cosa ti è successo ciao ciao mia moglie mi ha mandato un brutto messaggio che cosa ti ha scritto ha detto che mi vuole lasciare e ma non ti preoccupare le donne a volte lo diciamo per dire vedrai che non lo farà sì sì ma poi mi hanno scritto una ancora più brutto ancora più brutto che ti ha scritto scusa ho sbagliato numero